Siete ancora spaventati? Volete un bicchiere d'acqua? Buona spettita a tutti! A nostri due ospiti e a questo sugo speciale le fate tantissimo! Salute! Sì, non mangiate? Non è che io non amo i carboidrati? Facci scassarani, che mangia! Ma avete assaggiato mai un tuo cococcio? Buono! Eccezionale! Anche se mia mamma ci avrebbe messo un po' meno cipolla, però... Ma come che ti senti scelta di merda? Calmate, lo saluto! Come devo ringraziare che semmo siamo una brava persona? Eh, ma si vede! Sì, un assaggio! Subito! Mi piace! È eccezionale! È primo tale, la mia passione! Buono, buono, buono! Il problema è, ci hai comportato da un uomo! Sabe, chiunque al mio posto avrebbe ucciso l'amante della moglie!